Questa è un'azienda che lascia il 43 fondata da mio nonno, in questo sito produttivo è del 1971, la produzione lineare, quindi dalla pulizia del caffè crudo fino al confezionamento di macinati, queste macchine che vedete confezionano il caffè macinato, quindi la classica mazzonella 250 grammi, queste tre macchine fanno 80 parchetti al minuto e quei silos che vedete all'interno c'è il caffè macinato, ripeto questa è la parte finale del confezionamento. La foto del Presidente Matò Che è che ci spiega allora? Grazie 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 Grazie